Io innanzitutto dico la mia convinzione riguardo a un'iniziativa come questa. Vi devo dire che sento davvero urgente questa iniziativa perché la mia esperienza è che manca davvero una preparazione, una vera grammatica, userei dire, umana, sovente, in tutti quelli che hanno invece una mansione che non solo medica, la quale deve certamente nutrirsi della scienza e della tecnica, ma che dovrebbe innanzitutto nutrirsi di un umanesimo che invece è venuto a mancare e che non è stato trasmesso, ripeto, come grammatica umana accanto al malato. Il tema è vastissimo, soprattutto ho ascoltato prima Galimberti, che conosco bene, oltre ad essere il grande amico con lui, ma anche il dottor Pinto, che hanno già evocato situazioni che sarebbero stato un invito a percorrere i sentieri aperti da loro. Ma il tema veramente è vastissimo, per cui non è possibile il tema che è stato evocato ultimamente, quello da dove la sofferenza, un de malum, è un tema che meriterebbe eventualmente un altro congresso, e poi non basterebbe per arrivare poi a cosa, a dire che la sofferenza è il grande enigma, accompagna l'uomo dalla nascita fino alla morte. Ha ragione in questo il buddismo, la nascita è sofferenza, la crescita è sofferenza, la decadenza è sofferenza, la morte è sofferenza. Ma perché? Da dove resta un enigma? Le spiritualità, le religioni hanno cercato di dare una risposta? In realtà non ci sono riusciti. Neanche il cristianesimo che l'abbia cercato di dare eventualmente una dottrina, quella sì, ma il cristianesimo no, la Bibbia no, lascia il problema aperto. In vano voi cerchereste nella Bibbia da dove viene il male. Chi lo ha introdotto? C'era già prima dell'uomo? In quei racconti mitici? E perché? E da dove viene? E chi l'ha voluto? Non lo sappiamo. Se c'è un punto su cui c'è perfetta ignoranza di un cristiano fedele alla Bibbia e al Vangelo, è l'enigma del male. Un demalum è una domanda irrisolta, irrisolta, non risolvibile. Quindi questo tema lo lasciamo totalmente da parte. Mi fermo di più sul tema della cura, che è molto più ristretto, ma anche su questo devo dire alcune cose. Certamente sentirete in me l'eco di tutto quello che ha scritto, quello che è stato un grande mio amico e di cui sono stato discepolo, Ivan Illich, che sulla medicina e sulla cura ha scritto forse delle pagine più che profetiche trent'anni, vent'anni fa. Un primo punto. Io credo che se oggi, e mi fermo all'Occidente, perché se noi la cura la dovessimo affrontare a livello di cultura dell'Estremo Oriente, è un'altra cosa. C'è un'altra medicina, c'è un'altra assolutamente idea di che cos'è l'organismo, di che cos'è il corpo, di che cos'è la persona e di che cos'è la medicina. Quindi non tocchiamo quel mondo che per noi, al di là di qualche tentativo, per ora resta estraneo. Ma in Occidente, nell'Occidente in cui c'è stata soprattutto la tradizione biblica che l'ha plasmato, noi riguardo alla cura ci sentiamo in situazioni molto mancanti, o se volete, veramente agli inizi di un cammino, purtroppo grazie all'eredità cristiana. L'eredità cristiana è paradossale sul tema della cura e ve la spiega velocemente. Da un lato voi sapete che il Vangelo pone la salvezza nel rapporto con l'altro se voi volete nella cura. Quando Gesù dà il criterio per cui ci si salva, non dice che ci si salva pregando, non dice che ci si salva andando in Chiesa, non dice che ci si salva facendo azioni di culto, non ci si dice neanche che ci si salva se ci si astiene dai cosiddetti peccati della carne, quelli che preoccupano tanto la Chiesa. Dice una sola cosa, che non ci si salverà se si è omesso nel rapporto con l'altro di dargli da mangiare se aveva fame, di dargli da bere se aveva sete, di vestirlo se era nudo, se non la siamo andati a trovare in carcere, dicendogli ben ti sta se non abbiamo alloggiato lo straniero. Basta! lì è la salvezza per tutti i cristiani e non cristiani, che sono azioni di cura, visitare i malati era la cura, anche perché all'inizio il cristianesimo distingueva bene tra guarire e curare, ciò che invece non avviene attualmente, per cui si pensa che uno debba guarire. il medico non deve guarire, qualche volta guarirà, il suo compito è curare, molto più importante che guarire e questo invece noi non ce lo mettiamo in testa, né come attesa da parte del malato, come se il medico fosse là per farci guarire, ma in realtà noi siamo fragili, siamo mortali, la malattia ci viene per farci morire e il compito del medico è curarci, non è farci guarire, se poi arriva la guarigione meglio, ma lui non è fatto per farci guarire, è farci per curarci e quindi noi abbiamo davvero una grossa eredità che da un lato questo investimento nella carità e lo sapete che il cristianesimo ha fatto nella carità ciò che nessuna altra via religiosa ha fatto sulla faccia della terra è il cristianesimo che ha inventato i primi ricoveri per i vecchi che ha inventato gli ospedali che ha inventato le case d'accoglienza per quelli senza casa la cura la cura ma in contraddizione a questo ci sono indubbiamente dei problemi molto precisi che sono una contraddizione il primo all'interno del cristianesimo soprattutto del secondo millennio quello occidentale cattolico e poi protestante non così il mondo cristiano orientale ortodosso ha visto nella malattia un segno del castigo di Dio ricordatevi bene quel titolo del romanzo di Dostoevsky delitto e castigo dice il perno della spiritualità veramente là dove c'è il delitto è necessario il castigo da parte di Dio e la Chiesa del secondo millennio ha usato questo meccanismo costantemente fino all'AIDS per dire qualcosa di cui siamo stati testimoni fino alla pandemia dove anche alcuni vescovi italiani hanno detto ma la pandemia è nient'altro che il castigo di Dio per il malcostume e i costumi degenerati che ci sono nel mondo occidentale voi vedete dunque già una contraddizione perché la sofferenza è vista come qualcosa voluta da Dio di conseguenza questo assegna Dio un volto perverso se c'è una ragione di ateismo è proprio quella di avere un'immagine perversa di Dio Dio che fa soffrire non è possibile nel Vangelo non c'è ma la Chiesa ha inventato questo con la sua dottrina seconda cosa terribile la Chiesa ha visto nella sofferenza la remissione dei peccati l'espiazione quindi invitava addirittura di fronte alla sofferenza a una passività non resistenza contro il dolore non a lottare per guarire ma ad accettare passivamente perché quella era la maniera di espiare in anticipo quei peccati che si sarebbero espiati certamente comunque in purgatorio questa è la dottrina ufficiale ecco perché è venuta fuori questa spiritualità perfida che io ho ben conosciuto perché ho 80 anni non sono delle nuove generazioni post conciliari in cui si facevano i fioretti offrendo a Dio la sofferenza e in cui la Chiesa i più ferventi io sono uno di quelli non me ne vergogno non mi ha fatto troppo male per fortuna come vedete ma che il venerdì portava il cingolo con delle spine e si stringeva il cingolo fino a far uscire del sangue fin con il giorno mio padre che era sano non era credente del cattolico siccome mia madre vide delle piccole macchie di sangue nella cadottiera entrò in camera mi dice svestiti non vi dico la mia vergogna avevo 13 anni e ha tirato fuori la cinghia e allora sarebbe oggi sarebbero gravi gravi delitti con la cinghia mi ha dato delle cinghiate e mi ha detto questi sono colpi che ti do io non te li da Dio e sappi che se tu torni in casa e ti rimetti il cingolo io ti mando via di casa e non torni più e mi sono svegliato e non ho più fatto queste pratiche ma le abbiamo fatte era la sofferenza notate che proprio quando ero piccolo nasceva vicino a me un istituto volontario della sofferenza che c'è ancora sono dei religiosi che fanno voto chiedono a Dio di mandargli la malattia in modo da espiare i peccati degli altri terza cosa rendetevi conto 1415 concilio ecumenico laterano quarto la chiesa legifera concilio ecumenico quindi massima autorità e questo vi dice tutto della cura cattolica se un malato chiama i medici ma non accetta di chiamare prima il prete di confessarsi sia scomunicato lui e se i medici vanno anche se lui è in punto di morte e non ha accettato di confessarsi siano scomunicati i medici vietata la cura se uno non si confessava voi mi dite che tipo di pietà e ho scoperto proprio recentemente che il grande santignazzo di loiola commenta questa questo precetto del del concilio laterano quarto dicendo è una cosa giusta perché non è contro la carità perché così il peccatore impara che o si confessa e allora anche se muore va in paradiso perché se non si confessa sono inutili i medici intanto va l'inferno e perché dovrebbe guarire questo vi dice come noi veniamo da un tempo in cui culturalmente la cura c'è come carità il fine della cura era la carità uno facendo la cura non guardava il malato io vorrei che farvi capire questo non era il malato la sua suprema preoccupazione la sua suprema preoccupazione era la cura era l'amore che lui faceva dunque faceva dei meriti a se stesso questo fa sì che il malato non abbia mai avuto quella centralità della cura che è così necessaria e vediamo che non c'è stata una cultura del dolore e ancora oggi sovente in Italia non è a caso che la cultura del dolore risente molto dell'eredità religiosa come c'è ancora nel sud Italia credetemi ve lo dico perché conosco le situazioni è molto difficile che voi possiate ricorrere alle cure palliative se siete persone normali e abitate soprattutto in quella che è non la grande città perché dicono ma insomma si soffre si deve soffrire prega Dio ti farai dei meriti espi i peccati noi invece dobbiamo capire innanzitutto che la sofferenza non è voluta da Dio la sofferenza in questo mondo fragile non dobbiamo pensare che è voluta da Dio così come non dobbiamo incolpare l'uomo quello che è avvenuto nella storia era per non dire che Dio ha introdotto il male e la sofferenza nel mondo incolpiamo l'uomo che l'ha introdotta col peccato è lo schema che ha valso fino a 30 anni fa è l'uomo responsabile di tutto anche contro l'evidenza dell'evoluzione se voi volete ormai da da decenni un dato scientifico no prima non c'era la morte la morte l'ha introdotta l'uomo con quello che miticamente viene detto il primo peccato come se ci fosse stata una preistoria dell'umanità e se non fosse invece il peccato originale quello che ognuno di noi porta dentro come debolezza e fragilità ogni volta che nasce inclinazione a voler più bene a se stesso che agli altri è la filautia della sopravvivenza della specie questo è il male che abbiamo tutti e che fa che ognuno di noi porti in sé l'animale noi non dimentichiamo prima di essere uomini siamo animali e l'animale pur di vivere vive contro gli altri e senza gli altri questo è il male che c'è in ognuno di noi male originale che sta alle radici del nostro essere per ognuno che nasce non è la società che rende cattivo chi nasce è dentro di noi perché c'è in noi un animale e questo lo verificate sia nell'agire ve lo dico ma lo capite e soprattutto in quella che è la sessualità siamo animali pensate quanto disciplina dobbiamo dare alla sessualità per non essere come gli animali ma abbiamo lo stesso stimolo degli animali e ci vuole tutto un insieme di regole di disciplina al nostro corpo per arrivare dalla pubertà a una situazione di maturità in cui l'esercizio della sessualità umanizzi e non sia alienante questo è la nostra condizione e noi dobbiamo pigliarne atto e quindi smettere di pensare a una situazione in cui o l'uomo è colpevole o Dio è colpevole è la fragilità umana e il male c'è ma il male in questa situazione io affermo è insensato non ha senso ci accompagna dalla nascita alla morte non ne possiamo fare a meno ma non avrà mai senso la sofferenza fisica non avrà mai senso e quando si dice che la sofferenza fisica fa bene non si sa quel che si dice perché normalmente la sofferenza fisica abrutisce rende addirittura a volte cattivi pochissime persone hanno la capacità di disciplinare e attraversare la sofferenza restando capaci di amare e di accettare di essere amati non so se in casa vi è mai capitato di avere qualcuno che a un certo punto ha semplicemente un ictus o è colpito dal Parkinson persone che diventano nervose che diventano insofferenti che a volte diventano violenti e non le riconoscete più quante volte si sente dire mio marito era abitissimo da quando il Parkinson non lo riconosco più gli scatti si arrabbia mi tratta male è il dolore che disumanizza è la sofferenza è la malattia noi noi non possiamo assolutamente pensare che la malattia abbia un senso è insensato ecco perché bisogna smetterla di offrire il proprio dolore all'interno della malattia ciò che dobbiamo cercare di fare e dobbiamo chiedere agli altri di aiutarci a farlo anche con spirito preventivo aiutarci ad accettare che gli altri ci amino e che noi amiamo gli altri ancora perché nella malattia si diventa più egoisti già la vecchiaia ci rende più cinici diciamo la verità non è vero che la vecchiaia rende più buoni quante persone arrivano a 60 anni e non sanno quel che dicono per fortuna ma dicono ah finora ho pensato ai figli alla famiglia speso la vita per gli altri adesso devo pensare a me poverini non sanno quel che dicono e non dicono la verità in realtà però questa è una confessione d'egoismo terribile pensare a me ma cosa significa pensare a me a noi che siamo chiamati a vivere insieme la cui vocazione è la società è la comunità se l'amicizia è la relazione è la storia d'amore questa è la vita l'altro è semplicemente la solitudine l'isolamento il morire da soli quindi noi dobbiamo stare attenti lì e prepararci davvero verso questa fine io devo dire che ho avuto penso una grazia di accompagnare tanti morrenti credo una cinquantina prima dei vent'anni perché allora era un'altra cultura il parroco sempre mi prendeva con sé allora quando uno era morente il parroco andava e stava lì anche sei sette otto ore io me le ricordo accanto al letto aspettando che l'altro morisse fino al momento in cui poverino parlava in latino ai contadini del Monferrato i contadini capivano nulla però lui in latino io ricordo la formula gli diceva profecisci anima dei vai anima di Dio vai parti che era meraviglioso sovente andavano tranquilli altre volte invece erano arrabbiati altre volte se la pigliavano con Dio altre volte sembravano intontiti le morti sono diverse per tutti ed è la meraviglia che i Vangeli ci danno quattro morti di Gesù non ci danno una stessa morte c'è la morte pacifica nel quarto Vangelo e c'è la morte terribile con un urlo ahhh in Marco Gesù muore così senza una parola un grande grido quindi le morti sono le morti ognuno la propria morte dice Rilke in una straordinaria poesia preghiera dona Signore a ciascuno la sua morte ma noi dobbiamo pigliar atto che questo cammino dobbiamo prepararlo ma non nel senso con cui si preparava per prepararci l'anima ad andare in paradiso ma preparare per accettare il limite e accettare il limite e in questo davvero la grecità l'eredità greca ci aiuta molto il capire che noi siamo una comunità di co-creature e che abbiamo una nascita una crescita una decadenza una morte avere più contatto con la natura con la terra per capire le stagioni che non dobbiamo solo capirle intellettualmente ma devono entrare dentro di noi e dobbiamo accettare che la vita ha questo esito certamente non è facile io lo vedo nella mia vita 80 anni ho sovente delle angosce la paura della demenza senile la paura dell'Alzheimer la paura di tante finali durante la pandemia vi immaginate la paura di fare le fini di quegli intubati separati da tutti e portati via veramente in una situazione disumana abbiamo temuto tutti come gli altri però nello stesso tempo se regna la comunicazione se regna la capacità di affetto l'attenzione io credo che un cammino lo si può fare che umanizzi anche il cammino di morte poi voi certamente conoscete come me tutti gli studi di Kübler-Ross di Enel Zell di tutta questa generazione di donne straordinarie soprattutto in Francia in Svizzera e Belgio che ha scritto libri straordinari su come accompagnare i morenti medicalmente ma anche umanamente non sono certi libri religiosi ma che sono stati davvero una crescita di umanesimo per umanizzare la morte in questi ultimi decenni di conseguenza io vi dirò semplicemente alcuni punti il primo ritenere che ogni paziente è una persona intiera l'han già nominato prima io lo ridico l'azione della cura deve riguardare tutta la persona e curare significa sollevare dalla sofferenza anche quando non si può guarire la medicina non deve dimenticare questa dimensione di accompagnamento propriamente umana interessandosi solo alla guarigione corporale e non anche alla guarigione psichica nella pratica della cura bisogna imparare cosa significa persona intiera la persona totale attenzione ciò non consiste nel conoscere il paziente in tutte le sue dimensioni biologiche psicologiche sociali spirituali una tale pretesa sarà fallimentare e il paziente la può vivere come intrusiva quando il paziente consulta il medico non cerca in lui una combinazione di biologo psicologo guida spirituale ma si attende di trovare in chi la cura dal punto di vista medico che lo considera una persona intiera totale e sa assumere di lui anche ciò che è la sua storia imparando a conoscere che non c'è solo un corpo balato ma c'è una storia perché noi siamo la storia siamo ciò che siamo vissuti e l'importanza che il medico abbia questa continuità non ci sia questa specializzazione per cui a un certo punto come già si è evocato il medico scompare e restano eventualmente i tecnici che accompagnano il malato terminale bisogna che ci sia davvero la possibilità di un accompagnamento umano non solo la competenza scientifica ma la capacità di essere persone accanto a un'altra persona è determinante non solo ciò che sanno fare gli operatori ma ciò che sanno essere Jean Garnier Sir Henry Saunders hanno tracciato delle linee essenziali di questa humanitas opietas da esercitarsi nei confronti dei pazienti colui che sa rispondere alla volontà di colui che soffre come dimostrato testimoniano tante unità di cure palliative la cura globale della persona contribuisce a una morte rappacificata al morire meglio che si può non c'è una morte ottima ne possiamo garantire una morte del tutto indolore secondo punto la dignità dell'essere umano è in peritura la grandezza e la dignità di ogni persona si devono imporre al medico come una richiesta di responsabilità si vive una sola volta e la vita è l'unica di cui ciascuno di noi dispone non ce ne sono altre in una cultura della terra questa grandezza della persona umana è affermata fino a legiferare che nessuna persona può perdere la sua dignità oggi questo principio è contestato da una situazione che può venirsi a creare perdere la capacità di fare le scelte che si desiderano non avendo più l'autonomia e questo significherebbe non essere più degni e se la dignità è fondata sul riconoscimento dell'umanità da parte degli umani chi non è più riconosciuto sufficientemente umano avrebbe perso la dignità la dignità dell'essere umano è in peritura perché la sua psiche il suo corpo la sua persona intiera resta sempre persona che richiede rispetto integrale in qualunque circostanza un vivente non può essere trattato come un morto terzo punto sono molto sintetico le cure palliative non può regnare l'aforisma finché c'è vita c'è speranza questo detto della sapienza popolare che induce all'accanimento terapeutico come atteggiamento e pratica che vuole mantenere in vita una persona con tutti i mezzi resi possibili dalla tecnica il curante deve sforzarsi in tutte le circostanze di sollevare dalla sofferenza il malato e deve astenersi da ogni ragionevole ostinazione nell'investigazione e nella terapia si devono tralasciare trattamenti inutili sproporzionali che non hanno nessun effetto che non il mantenimento artificiale della vita noi sappiamo che a questo proposito il medico deve tener conto di un aspetto etico e di un aspetto giuridico sul quale in Italia continuano vergognosamente a regnare da parte della politica la latitanza e la dilazione e non fanno nulla si dibatte ancora sull'alternarsi tra le cure pagliative e un certo dolorismo che a volte si vuole cristiano ma il dolorismo è già stato condannato anche in modo ufficiale dalla Chiesa fin dal secolo scorso da parte di Pio XII si tratta dunque di stabilire un patto di fiducia tra medico e paziente attraverso le cure pagliative sempre da sviluppare mediante la ricerca medica le direttive anticipate redatte dal paziente che non obbligano il medico ma gli chiedono di tenerle conto io quando sono stato priore della comunità di Bose ho chiesto ai miei monaci e alle mie monache assolutamente di fare e consegnarmi il testamento biologico perché dovevo sapere come volevano essere trattati in caso di estrema condizione di morte e cosa dovevamo fare non si devono lasciare responsabilità con sensi di colpa a chi resta si dica prima cosa si vuole fare continuare le cure ad ogni costo si vuole le cure pagliative a costo di abbreviare la vita queste sono possibili e se uno non è credente vuole in certo caso interrompere anche il suo cammino di vita con un suicidio assistito questo se la legge lo permetterà ma ci sia questa libertà in Francia in Belgio la chiesa notate bene che non approva il suicidio però chiede ai preti di andare ad accompagnare i suicidi cattolici che lo richiedono e che pur facendo ciò che è contrario alla chiesa vogliono un'assistenza accanto religiosa finché se ne vanno questa è umanesimo 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 vero se mi fermo qui e non vado oltre per non entrare in problemi scottanti no ma perché l'etica cristiana è chiara sufficiente a questo punto certo se uno la trasforma in casistica morale a quel punto fa semplicemente se stesso e tutti gli altri schiavi della legge qualunque sia il modo di concepire dalla morte da parte del paziente le cure palliative sono un dovere assoluto perché il morire fa parte della vita e va addolcito per rendere la morte più mansueta e accettabile non tutti riescono a dire sorella morte dobbiamo aiutarli il più possibile a dire ringrazio di aver vissuto e accetto che adesso è la fine infine recentemente Eugenio Borgna ha dedicato alla fragilità un'attenzione che giustamente vuole essere eloquente nel denunciare una deriva individualista che vorrebbe il compimento dell'individuo indipendentemente dalle relazioni con gli altri e nel far emergere come questa condizione umana che lega tra loro le persone debba essere intesa come un valore la formula di Emanuele Levinas è dopo di voi piuttosto che prima io ovvero io sono responsabile dell'altro e la fragilità dell'altro che ha nella malattia e la sua epifania mi chiede innanzitutto di prendermi cura di lui di sentire un dovere verso di lui non solo personalmente ma come soggettività sociale spetta dunque ai medici aiutare una cultura della cura nella dimensione etica del care certo questo lo fanno molte istituzioni che si prefiggono di essere caritatevoli e di dedizione ma medici terapeuti per vocazione con il loro fare e il loro essere devono diventare un riferimento esemplare a tale riguardo se la persona fragile costituisce la pietra angolare dell'etica il medico ne deve tener conto per il suo lavoro di ricostruzione dell'identità della persona una medicina olistica prende in conto la fragilità e sa scorgere in essa anche situazioni positive per il malato per la sua conoscenza per la lotta contro il male per l'accoglienza della malattia e della morte l'augurio che vi faccio è che anche voi date un contributo a questa cura sempre più necessaria di chi è fragile ma che è semplicemente nella vostra condizione in una maniera oggi più manifesta di voi grazie 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 grazie